Io ho già tante calamità con cui dobbiamo avere a che fare. Non vogliamo aggiungere quest'altra cannesia? No, ma non la ritengo neanche una calamità, è soltanto un cielo nuvoloso. Però c'è stato evidentemente una risposta unitaria della maggioranza, ci sarà rispetto. Con una nuvola di passaggio. Però per affrontare le tematiche che affronta lei c'è bisogno anche di un ministro del turismo. Io credo che l'opposizione farebbe bene a trovare argomenti molto più ragionevoli. Ho paura che siano davvero a corto di temi. Vi auguro buon lavoro. E anche eventualmente davanti ad un rinvio a giudizio, secondo lei? Mi dicono di dover farle domande. Io sono un garantista. Un rinvio a giudizio significa che ancora il giudizio deve arrivare. Se vogliamo emettere la sendenza prima ancora del giudizio, credo che più che un problema procedurale sia un tema di opportunità politica e quindi legato essenzialmente alle valutazioni del singolo interessato. Quindi per dimettersi deve aspettare i tre appelli. Lei condannerebbe una persona senza processo? No, però... Beh, bene, però non c'è però. Buona giornata. Grazie. Grazie.